Stradella, 2-1 prima! Eccoci qua, per la video experience di oggi siamo a Stradella e vedremo un bellissimo cappannone di testata libero su tre lati ma prima di cominciare vi invito a mettere il like alle nostre pagine, al video e ad iscrivervi ai nostri canali 400 metri quadrati di magazzino a piano terra 150 metri quadrati di uffici sempre a piano terra e altri 270 metri quadrati di uffici al piano terra il mobile è completamente piastra in alto quindi possiamo parlare tra l'altro in generico ma in piastra e nel dettaglio di piano anche la parte di cappannone è riscaldata riporto con me, questa è la parte uffici divisa in un corpo spogliatoi bagni diciamo un corpo di servizio e un corpo uffici gli uffici hanno il vantaggio di avere il loro ingresso perché come vi ho detto prima è libero su tre lati questa è una zona open space completamente piastrellata che in questo momento non ha una distribuzione definita e per la video experience di oggi da stradella per il mobile impresa adotabile è tutto